a Leon Verde. Mi scuso con i bambini per aver dedicato questo libro ad un adulto. Ho una buona scusa. Quest'adulto è il miglior amico che ho al mondo. Ho un'altra scusa. Quest'adulto può capire tutto, anche i libri per i bambini. Ho una terza scusa. Quest'adulto vive in Francia, dove ha freddo e fame. Ha bisogno di essere consolato. Se tutte queste scuse non sono abbastanza, voglio dedicare questo libro al bambino che è stato. Tutti i grandi sono stati bambini, ma può essere che lo abbiano dimenticato. Dunque, correggo la mia dedica. A Leon Verde, quando era un bambino. Uno. Una volta, quando avevo sei anni, vidi un'immagine magnifica in un libro sulla foresta vergine che si chiamava Storie vissute. Rappresentava un serpente boa che inghiottiva una bestia. Ecco una copia del disegno. Nel libro c'era scritto, i serpenti boa inghiottiscono le proprie prede tutte intere, senza masticarle, quindi non riescono a muoversi nei sei mesi di digestione che seguono. Allora riflettei molto sulle avventure della giungla e anche io, con una matita colorata, sono riuscito a fare il mio primo disegno. Il mio disegno numero uno. Era fatto così. Ho mostrato il mio capolavoro ai grandi e ho chiesto loro se il mio disegno li impaurisse. Mi hanno risposto, perché un cappello dovrebbe far paura? Il mio disegno non rappresentava un cappello. Rappresentava un serpente boa che digeriva un elefante. Allora ho disegnato l'interno del serpente boa con lo scopo di farlo capire agli adulti. Hanno sempre bisogno di spiegazioni. Il mio disegno numero due era fatto così. Gli adulti mi hanno consigliato di mettere da parte i disegni dei serpenti boa dall'interno o dall'esterno e di interessarmi piuttosto alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. E così abbandonai all'età di sei anni una magnifica carriera da pittore. Fui scoraggiato dall'insuccesso del mio disegno numero uno e del mio disegno numero due. I grandi non capiscono mai nulla da soli ed è stancante per i bambini dover sempre dar loro spiegazioni. Ho dunque deciso di seguire un altro mestiere e ho imparato a pilotare gli aerei. Ho volato un po' dappertutto nel mondo e la geografia, sì esatto, mi è servita molto. A prima vista so riconoscere la Cina dall'Arizona. È molto utile se ci si è persi nella notte. Così nel corso della mia vita ho avuto un sacco di contatti con la gente seria. Ho vissuto tanto con gli adulti, li ho osservati molto da vicino. Ciò non ha migliorato la mia opinione un granché. Quando ne incontravo uno che mi pareva un po' perspicuo, lo mettevo alla prova facendogli vedere il mio disegno numero uno che ho sempre conservato. Volevo capire se era davvero una persona comprensiva, ma mi rispondeva sempre è un cappello. Allora non gli parlavo né dei serpenti boa, né delle foreste vergini, né delle stelle. Mi mettevo al suo livello. Gli parlavo di bridge, di golf, di politica e di cravate. E quest'adulto era ben contento di aver conosciuto un uomo altrettanto ragionevole. 2. Ho vissuto così la mia vita, solo, senza nessuno con cui parlare veramente, finché sei anni fa non ebbi un guasto nel deserto del Sahara. Si era rotto qualcosa nel motore e dato che non avevo né meccanici né passeggeri con me, mi preparai a tentare di eseguire tutto solo una riparazione difficile. Per me era una questione di vita o di morte. Avevo appena un po' d'acqua da bere per otto giorni. Dunque, la prima sera mi addormentai sulla sabbia mille miglia dalla terra abitata. Ero più isolato di un naufrago su una zattera in mezzo all'oceano. Quindi potrete immaginare il mio sgomento quando all'alba una vocina buffa mi svegliò. Disse, per favore, disegnami una pecora. Eh? disegnami una pecora. Scattai sull'attenti come se fossi stato colpito da un fulmine. Mi stropicciai per bene gli occhi. Guardai meglio e vidi un ometto assolutamente straordinario che mi guardava con serietà. Ecco il miglior ritratto che riusci a fargli poco dopo. Ma il mio disegno è certamente molto meno incantevole del modello. Non è colpa mia. Fui scoraggiato dal perseguire la mia carriera di pittore dai grandi all'età di sei anni e non avevo imparato a disegnare nulla, a parte i serpenti boa dall'interno e dall'esterno. Quindi guardai questa apparizione con gli occhi pieni di stupore. Non dimenticate che mi trovavo a mille miglia dalla terra abitata e il mio ometto non mi sembrava né perso né morto di fatica né morto di fame né morto di sete né morto di paura. Non aveva per niente l'apparenza di un bambino perso in mezzo al deserto a mille miglia da ogni luogo abitato. Infine, quando riuscì a parlare gli dissi, ma che ci fai là? Allora mi rispose delicatamente, come se fosse qualcosa di molto serio. Per favore, disegnami una pecora. Quando un mistero è troppo grande non si osa a disubbidire. Per quanto mi sembrasse assurdo a mille miglia da ogni luogo abitato e in pericolo di morte, tirai fuori dal mio taschino un foglio di carta e la mia penna stilografica. Ma mi ricordai che avevo studiato principalmente la geografia, la storia, l'aritmetica e la grammatica e dissi all'ometto, con un po' di malumore, che non sapevo disegnare. Mi rispose, non fa niente, disegnami una pecora. Dato che non avevo mai disegnato una pecora, rifeci per lui uno dei due disegni di cui ero capace, quello del serpente dall'interno. E fui sconvolto. Quando l'ometto mi rispose, no, no, non voglio un elefante dentro ad un serpente boa. Il serpente è troppo pericoloso e l'elefante è troppo ingombrante. A casa mia è tutto piccolo. Ho bisogno di una pecora. Disegnami una pecora. Allora disegnai. Guardò attentamente e disse, no, questa è troppo malata. Fanne un'altra. Il mio amico sorrise gentilmente, con indulgenza. Se vedi bene, questa non è una pecora. È un ariete. Alle corna. Allora rifeci ancora il mio disegno, ma fu rifiutato, proprio come quelli prima. Questa è troppo vecchia. Voglio una pecora che viva a lungo. Allora, pieno di impazienza, dato che non vedevo l'ora di smantellare il mio motore, scarabocchiai questo disegno. E controbattei. Questa è la cassa. La pecora che vuoi è dentro. Ma fuoi davvero sorpreso di vedere che il viso del mio giovane giudice si illuminò. È proprio come la volevo. Pensi che questa pecora abbia bisogno di molta erba. Perché? Perché a casa mia è tutto molto piccolo. Basterà sicuramente. Ti ho dato una pecora piccolina. Inclinò la testa verso il disegno. Non così piccola. Oh, guarda, si è attormentata. E fu così che conobbi il piccolo principe. Tre. Mi ci è voluto molto tempo per capire da dove venisse. Il piccolo principe, che mi faceva tante domande, sembrava non sentire mai le mie. Fu grazie a delle parole dette per caso, a poco a poco, che mi venne rivelato tutto. Così, quando vide per la prima volta il mio aeroplano, non disegnerò il mio aeroplano, è un disegno troppo complicato per me. Mi domandò. Che cos'è quella cosa là? Non è una cosa. Vola. È il mio aeroplano. Ed ero fiero di fargli sapere che volavo. Quindi gridò. Come? Sei caduto dal cielo? Sì, feci modestamente. Ah, che divertente. Il piccolo principe fece una bella risata che mi irritò molto. Desiderò che le mie disgrazie vengano prese seriamente. Poi aggiunse. Allora anche tu vieni dal cielo. Di che pianeta sei? Improvvisamente intravidi un vagliore nel mistero della sua presenza e lo interrogai bruscamente. Tu quindi vieni da un altro pianeta? Ma non mi rispose. Annui dolcemente con la testa mentre guardava il mio aeroplano. È vero. Su quel coso non puoi venire da molto lontano. E si toffò in una fantasticheria che durò a lungo. Poi tirò fuori il disegno della pecora dalla tasca e si immerse nella contemplazione del suo tesoro. Potrete immaginare come fu intrigato da quella mezza confidenza sugli altri pianeti. Quindi cercai di saperne di più. Da dove vieni, mio piccolo ometto? Dov'è casa tua? Dove vuoi portare la mia pecora? Mi rispose dopo un silenzio meditativo. La cosa più bella della cassetta che mi hai regalato è che di notte gli farà da casa. Certamente. E se fai il bravo, ti regalo anche una corda a cui legarlo di giorno. E un paletto. La mia proposta sembrò scioccarlo. Legarlo? Che idea buffa! Ma se non lo leghi andrà ovunque e si perderà. E il mio amico scoppiò nuovamente a ridere. Ma dove vuoi che vada? Non importa. Dritto per dritto. Allora il piccolo principe rispose in tutta serietà. Non fa niente. È talmente piccola casa mia. E forse con un po' di malinconia aggiunse. Dritto per dritto non si può andare molto lontano. Quattro. Così appresi una seconda cosa molto importante. Ovvero che il suo pianeta era appena più grande di una casa. Questa cosa non mi sorprese molto. Sapevo bene che, a parte i grandi pianeti come la Terra, Giove, Marte e Venere, a cui hanno dato un nome, ce ne sono centinaia di altri che sono a volte talmente piccoli che risulta difficile vederli col telescopio. Quando un astronomo ne scopre uno, lo chiama con un numero invece che un nome. Lo chiama, per esempio, asteroide 325. Ho delle valide ragioni per credere che il pianeta da cui veniva il piccolo principe fosse l'asteroide B612. Questo asteroide fu visto solo una volta al telescopio nel 1909 da un astronomo turco, il quale fece una grande dimostrazione della propria scoperta ad un congresso internazionale di astronomia. Ma nessuno gli credette a causa dei suoi abiti. I grandi sono fatti così. Fortunatamente per la reputazione dell'asteroide B612, un dittatore turco impose al proprio popolo, sotto pena di morte, di vestirsi all'europea. L'astronomo fece nuovamente la sua dimostrazione, nel 1920, indossando un abito molto elegante, e questa volta tutti furono d'accordo con la sua opinione. Se vi ho raccontato questi dettagli riguardanti l'asteroide B612 e se vi ho confidato il suo numero, è a causa degli adulti. Gli adulti amano le cifre. Quando parlate loro di un nuovo amico, non fanno mai domande sulle cose essenziali. Non vi dicono mai qual è il suono della sua voce, che giochi preferisce fare, colleziona le farfalle. Invece domandano quanti anni ha, quanti fratelli ha, quanto pesa, quanto guadagna suo padre. Solo allora pensano di conoscerlo. Se dite ai grandi, ho visto una bella casa di mattoni rosa, con dei gerani alle finestre e delle colombe sul tetto, non riescono ad immaginarsi questa casa. Dovete dire loro, ho visto una casa a centomila franchi. Allora urleranno, com'è carina? Così voi dite loro. La prova che il piccolo principe è esistito è che era incantevole, che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora, vuol dire che è esistito. Loro faranno spallucce e vi tratteranno come un bambino, ma se dite loro il pianeta da cui veniva il piccolo principe e l'asteroide B612, allora saranno convinti e vi lasceranno tranquilli senza farvi domande. Sono fatti così, non li biasimate. I bambini devono essere indulgenti con gli adulti. Ma certamente, noi che capiamo la vita, non ci interessiamo dei numeri. Avrei voluto iniziare questa storia come nelle favole. Avrei voluto dire, c'era una volta un piccolo principe che abitava su un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per quelli che comprendono la vita sarebbe stato molto più vero. Poiché non amo che si prenda il mio libro alla leggera, provo tanto dolore a raccontare questi ricordi. Sono passati sei anni da quando il mio amico se n'è andato con la sua pecora. Se sono qui che provo a scrivere, è al fine di non dimenticare. È triste dimenticare un amico. Tutto il mondo non ha avuto un amico e potrei diventare come i grandi che non si interessano di altro a parte i numeri. È quindi per questo che ho comprato una scatola di colori e matite. È difficile rimettersi a disegnare alla mia età quando non si è cercato di fare al contentativo se non quello di un boa chiuso e un boa aperto all'età di sei anni. Sicuramente proverò a fare dei ritratti che gli assomiglino il più possibile, ma non sono affatto sicuro di riuscirci. Un disegno funziona e l'altro non gli assomiglia più. Posso sbagliarmi un po' anche sulla statura. Qui il piccolo principe è troppo grande, là è troppo piccolo. Ti tubo anche sul colore dei suoi abiti. Dunque vado avanti per tentativi, a volte bene e altre male. Di sicuro sbaglierò alcuni dettagli importanti, ma me lo dovete perdonare. Il mio amico non mi dava mai spiegazioni. Pensava che potessi essere come lui, ma io sfortunatamente non so vedere le pecore nelle casse. Può essere che io sia un po' come gli adulti. Devo essere invecchiato. 5. Ogni giorno imparavo qualcosa di nuovo sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio. Avveniva tutto molto lentamente, attraverso delle riflessioni casuali. Fu così che il terzo giorno appresi del dramma del Baobab. Questa volta qui fu grazie alla pecora, perché il piccolo principe tutto ad un tratto mi chiese, come se folgorato da un dubbio importante. È vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero. Ah, sono contento. Non capivo perché era così importante che le pecore mangiassero gli arbusti, ma il piccolo principe aggiunse, di conseguenza mangiano anche i Baobab. Feci notare al piccolo principe che i Baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come delle chiese, e che anche se avesse con sé una mandria di elefanti, quest'ultima non arriverebbe neanche alla cima di un solo Baobab. L'idea della mandria di elefanti fece ridere il piccolo principe. Si dovrebbe metterli uno sopra l'altro. Ma il bambino rispose con saggezza. I Baobab, prima di crescere, iniziano con l'essere piccolini. Giusto, ma perché vuoi che le tue pecore mangino i Baobab piccoli? Mi rispose, bene, vediamo, come se fosse ovvio, e feci un grosso sforzo di intelligenza per capire il problema. Infatti, sul pianeta del piccolo principe c'erano, come su tutti i pianeti, delle buone e delle cattive erbe. Di conseguenza, dei semi buoni dalle erbe buone e dei semi cattivi dalle erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della Terra finché ad uno di questi non viene la fantasia di svegliarsi. Allora si stiracchia. E per prima cosa, spinge timidamente un ramoscello innocuo verso il sole. Se si tratta di un ramoscello di ravanello o di rosa, lo si può lasciar stare. Ma se si tratta di una pianta cattiva, bisogna sradicarla immediatamente appena la si riconosce. Ma c'erano dei semi terribili sul pianeta del piccolo principe. Erano i semi di Baobab. Il suolo del pianeta era infestato. Ma di un Baobab, se lo si prende troppo tardi, non ci si può più sbarazzare. Ricopre tutto il pianeta. Ci sprofonda dentro con le radici. E se il pianeta è troppo piccolo, e se i Baobab sono troppo numerosi, lo fanno esplodere. È questione di disciplina, mi disse dopo il piccolo principe. Quando si finisce con la propria toiletta mattutina, bisogna svolgere attentamente la toiletta del pianeta. Bisogna sforzarsi di strappare regolarmente i Baobab appena li distingui dalle rose, alle quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma molto facile. E un giorno mi consigliò di applicarmi a fare un bel disegno, in modo da far capire tutta la questione dei Baobab ai bambini. Se dovessero viaggiare un giorno, mi disse, potrebbe servire. A volte è scomodo rimandare il lavoro, ma se si tratta di Baobab è sempre una catastrofe. Conoscevo un pianeta abitato da un pigro. Aveva trascurato tre arbusti. E sulle indicazioni del piccolo principe disegnai quel pianeta. Non mi piace il tono da moralista, ma il pericolo dei Baobab è poco conosciuto e i rischi a cui si va incontro per chi si trova su un asteroide sono così grandi che, per una volta, faccio un'eccezione alla mia premessa. Dico, bambini, state attenti ai Baobab. Lo faccio per avvertire i miei amici di un pericolo a cui vanno incontro da molto tempo, proprio come me. Ecco perché ho lavorato molto a quel disegno là. La lezione che ci insegna vale la pena. Forse vi chiederete, perché non ci sono in questo libro altri disegni così grandiosi come il disegno dei Baobab? La risposta è molto semplice. Ci ho provato, ma non ci sono più riuscito. Quando ho disegnato i Baobab, ero spinto da un sentimento di urgenza. sei. Ah, piccolo principe, ho conosciuto così poco a poco la tua piccola vita malinconica. Non hai avuto molto tempo per distrarti, a parte la dolcezza dei tramonti. Ho imparato questo tuo nuovo dettaglio il quarto giorno, di mattina, quando mi hai detto, mi piacciono molti i tramonti, andiamo a vederne uno. Ma dobbiamo aspettare. Aspettare cosa? Aspettare che il sole tramonti. Avevi l'aria sorpresa, e poi hai riso di te stesso. E mi hai detto, penso di essere sempre a casa mia. In effetti, è risaputo in tutto il mondo, quando è mezzogiorno negli Stati Uniti, il sole tramonta in Francia. Basterebbe andare in Francia in un minuto per assistere al tramonto. Sfortunatamente la Francia è troppo lontana, ma sul tuo pianeta, così piccolo, basta che giri la sedia di qualche passo, e vedi il crepuscolo ogni volta che lo desideri. Un giorno ho visto il sole tramontare 44 volte. E poco dopo hai aggiunto, sai, quando si è tanto tristi è bello vedere un tramonto. Il giorno delle 44 volte eri triste, ma il piccolo principe non mi rispose. 7. Il quinto giorno, sempre grazie alla pecora, mi fu rivelato il segreto della vita del piccolo principe. Mi chiese improvvisamente, senza preamboli, come il frutto di un problema di lunga data, cui aveva meditato in silenzio. Una pecora, se mangia gli arbusti, mangia anche i fiori. Una pecora mangia tutto ciò che trova. Anche i fiori con le spine? Sì, anche i fiori con le spine. Allora le spine a che servono? Non lo sapevo. Ero occupato a cercare di svitare un bullone troppo stretto nel mio motore. Ero troppo preoccupato perché il guasto mi iniziò a sembrare davvero grave e l'acqua a disposizione mi dava motivo di temere il peggio. Le spine a che servono? Il piccolo principe non rinunciava mai ad una domanda dopo che l'aveva fatta. Ero irritato dal mio bullone e risposi con la prima cosa che mi venne in mente. Le spine non servono a nulla, sono pura cattiveria da parte dei fiori. Oh. Ma dopo un breve silenzio, aggiunse con una sorta di risentimento. Non ti credo. I fiori sono deboli, sono ingenui, si rassicurano come possono. Si credono terribili con le loro spine. Io non risposi. In quel preciso istante dissi tra me e me. Se questo bullone resiste ancora gli do un colpo di martello. Il piccolo principe interruppe nuovamente le mie riflessioni. E tu credi che i fiori? Ma no, ma no, non credo niente. Ho risposto a caso. Mi sto occupando di cose serie. Mi guardò stupefatto. Di cose serie? Mi guardò col mio martello in mano e le dita unte di nero attorcigliata ad un oggetto che gli pareva orribile. Tu parli come i grandi. Mi fece vergognare un po'. Spietato aggiunse. Tu confondi tutto. Tu mischi tutto. Era davvero arrabbiato. Tremava al vento con i suoi capelli dorati. Conosco un pianeta dove c'è un signore paonazzo. Non ha mai annusato un fiore. Non ha mai guardato una stella. Non ha mai amato qualcuno. Non ha mai fatto altro che le sue addizioni. E tutto il giorno ripete, proprio come te, sono un uomo serio io, sono un uomo serio. E questo lo fa gonfiare con orgoglio. Ma non è un uomo, è un fungo. Un che? Un fungo. Il piccolo principe era tutto pallido e pieno di collera. È da milioni di anni che i fiori fabbricano le proprie spine. Ed è da milioni di anni che le pecore mangiano comunque i fiori. E non è serio cercare di capire perché i fiori si fanno così tanti problemi a creare delle spine che non servono a nulla? Non è importante la guerra tra pecore e fiori? Non è più seria ed importante dei conti di un grosso signore paonazzo? E se io, io stesso conosco un fiore unico al mondo che non esiste da nessun'altra parte se non sul mio pianeta e che una pecorella può annientare in un colpo solo, così, una mattina qualunque, senza rendersi conto di ciò che sta facendo, questo non è importante. Arrossì e poi riprese. Se qualcuno ama un fiore di cui ne esiste solo un esemplare tra milioni e milioni di stelle e basta guardarlo soltanto per essere felici, allora si dice il mio fiore è là da qualche parte. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto tutte le stelle si spegnessero. E questo non è importante. Non potei aggiungere altro. Scoppiò improvvisamente in un mare di singhiozzi. Calò la notte. Lasciai i miei strumenti, non mi importava più del mio martello, del mio bullone, della sete o della morte. C'era su una stella, su un pianeta, il mio, la terra, un piccolo principe da consolare. Lo presi tra le mie braccia, lo collai. Gli dissi, il fiore a cui vuoi bene, non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora. Disegnerò un'armatura per il tuo fiore. Io non avevo molto da dire. Mi sentivo in imbarazzo. Non sapevo come prendermene cura o come avvicinarmi. È talmente misterioso il paese delle lacrime. Otto. Imparai velocemente a conoscere meglio quel fiore. Sul pianeta del piccolo principe c'erano sempre stati dei fiori semplici ornati da un solo strato di petali che non occupavano spazio e non davano fastidio a nessuno. Comparivano un mattino nell'erba e poi la sera scomparivano. Ma quel fiore l'asbocciò un giorno da un seme che veniva da chissà dove e il piccolo principe sorvegliò fin dall'inizio il ramoscello che non assomigliava a nessun altro ramoscello. Poteva essere una specie nuova di baobab. Ma l'arbusto smise presto di crescere e iniziò a creare un fiore. Il piccolo principe che assistette alla nascita di un enorme germoglio sentiva che sicuramente ne sarebbe emersa una sorta di apparizione miracolosa ma il fiore non aveva intenzione di completare i preparativi per la sua bellezza sotto ad un alone verde. Sceglieva con cura i propri colori e aggiustava uno ad uno i propri petali. Non voleva mica uscire tutta sgualcita come i papaveri. Non voleva che apparire in tutta la sua raggiante bellezza. Eh sì era molto civettuola. Questa sua toeletta misteriosa dunque era durata giorni e giorni. Ed ecco qui che un mattino proprio all'alba si fece vedere e lei che aveva lavorato tanto di precisione disse sbadigliando. Ah mi sono appena svegliata ti chiedo scusa sono ancora tutta spettinata. Il piccolo principe allora non poté contenere la sua ammirazione. Come sei bella! Vero? Rispose dolcemente il fiore. E sono nata allo stesso tempo del sole. Il piccolo principe capì subito che non era un fiore troppo modesto però era commovente. Credo sia l'ora di fare colazione disse dopo un po'. Abbi la bontà di pensare a me. E il piccolo principe tutto confuso andò a cercare un annaffiatoio con dell'acqua fresca per servirla. Così lo iniziò a tormentare velocemente con la sua vanità scontrose. Un giorno per esempio parlando delle sue quattro spine gli disse. Potrebbero venire le tigri con i loro artigli. Non ci sono le tigri sul mio pianeta. Obiettò il piccolo principe. E poi le tigri non mangiano l'erba. Io non sono erba. Rispose dolcemente il fiore. Scusami non temo le tigri ma le correnti d'aria mi fanno orrore. Non è che avresti un paravento. Orrore delle correnti d'aria è una sfortuna per una pianticella disse il piccolo principe. Questo fiore è molto complicato. La sera puoi mettermi sotto ad una campana di vetro. Fa freddo qui a casa tua. È posizionata male. Da dove vengo io? Ma si interruppe. Era venuta sotto forma di seme. Non poteva conoscere gli altri mondi. Umiliata dall'essersi fatta cogliere nel bel mezzo di una bugia così ingenua, iniziò a tossire due o tre volte per mettere a disagio il piccolo principe. Il paravento? Lo stavo andando a cercare ma mi parlavi? Allora si sforzò di tossire un altro po' per farlo sentire in colpa. Così il piccolo principe, malgrado la buona volontà che metteva nell'amarla, iniziò a dubitare di lei. Dava peso alle parole senza importanza che diceva lei e diventò molto triste. Non avrei dovuto ascoltarla, mi confidò un giorno. Non bisognerebbe mai ascoltare i fiori. Basta solo guardarli e annusarli. Il mio fiore profumava tutto il mio pianeta, ma non sapevo rallegrarmene. La storia degli artigli, che mi aveva così infastidito, avrebbe dovuto farmi tenerezza. Continuò. Non capivo niente allora. Avrei dovuto giudicare le sue azioni e non le sue parole. Profumava e irradiava tutto. Non mi sarei mai dovuto arrabbiare. Avrei dovuto comprendere tutto l'affetto che c'era dietro ai suoi stratagemmi. I fiori sono così contraddittori, ma ero troppo giovane per saperla amare. 9. Credo che per partire approfittò della migrazione di uno stormo di uccelli selvatici. La mattina della partenza mise il pianeta in ordine. Spazzò con cura i suoi vulcani attivi. Aveva due vulcani attivi ed erano molto comodi per riscaldare la colazione. Aveva anche un vulcano inattivo, ma, come diceva sempre, non si sa mai. Spazzava ugualmente anche quello inattivo. Se sono ben puliti, i vulcani bruciano delicatamente e regolarmente senza eruzioni. Le eruzioni vulcaniche sono come i fuochi dei caminetti. Evidentemente sulla nostra terra siamo troppo piccoli per pulire i vulcani. È per questo che sono causa di così tanti problemi. Così, il piccolo principe strappava, con un po' di malinconia, gli ultimi germogli di Baobab. Pensava non sarebbe più tornato. Tutte queste faccende domestiche quel mattino gli sembrarono dolci, e quando innaffiò il fiore un'ultima volta e si preparava a metterlo sotto alla campana di vetro, sentì che stava per piangere. Addio, disse al fiore, ma lei non rispose. Addio, ripeté il piccolo principe. Il fiore tossì, ma non era raffreddore. Sono stata sciocca, disse lei infine. Ti chiedo perdono. Cerca di essere felice. Rimase sorpreso dall'assenza di rimproveri. Rimase lì tutto sconcertato con la campana di vetro a mezz'aria. Non capiva quella dolcezza mite. Ma sì, ti voglio bene, disse il fiore. Tu non ne sapevi nulla per colpa mia. Non importa, tu sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia stare la campana, non la voglio più. Ma il vento? Non ho il raffreddore. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore. Ma le bestie? Devo sopportare due o tre bruchi se voglio conoscere le farfalle. Sembra siano belle. Se no, chi mi verrà a trovare? Tu sarai lontano. In quanto alle bestie grandi, non ho per niente paura. Ho gli artigli. E mostrò ingenuamente le quattro spine. Poi aggiunse. Non restare lì in palato è fastidioso. Hai deciso di partire. Vattene. Perché non voleva che la vedesse piangere. Era un fiore talmente orgoglioso. Dieci. Si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Iniziò dunque a visitarli per cercare un'occupazione e istruirsi. Il primo era abitato da un re. Il re, che indossava un mantello di armellino color porpora, sedeva su un trono semplice ma alquanto maestoso. Ah, ecco qui un suddito. Urlò quando scorse il piccolo principe. E il piccolo principe si chiese. Come fa a riconoscermi se non mi ha mai visto? Non sapeva che per i re il mondo è molto semplice. Tutti gli uomini sono sudditi. Avvicinati perché ti veda meglio. Disse il re tutto fiero di essere re per qualcuno. Il piccolo principe cercò dove sedersi ma il pianeta era tutto coperto dal magnifico mantello di armellino. Rimase dunque in piedi e siccome era stanco sbadigliò. È maleducazione sbadigliare davanti ad un re, disse il monarca. Te lo proibisco. Ma non posso farne a meno, rispose il piccolo principe tutto confuso. Ho fatto un viaggio molto lungo e non ho dormito. Allora, gli disse il re, ti ordino di sbadigliare. Non vedo nessuno sbadigliare da anni. Gli sbadigli per me sono una curiosità. Avanti, sbadiglia ancora. È un ordine. Mi avete messi in imbarazzo, non posso più. Fece il piccolo principe arrossendo. Mmm, mmm, rispose il re. Allora io ti ordino a volte di sbadigliare e a volte... Borbottò un po'. Sembrava seccato. Perché i re essenzialmente ci tengono affinché la loro autorità venga rispettata. Non tollerava la disobbedienza. Era un monarca assoluto. ma siccome era buono impartiva degli ordini ragionevoli. Se ordinassi, disse, se ordinassi ad un generale di diventare un uccello di mare e se il generale non obbedisse non sarebbe colpa del generale. Sarebbe colpa mia. Posso sedermi? chiese timidamente il piccolo principe. Ti ordino di sederti, rispose il re che rimaneva maestosamente avvolto dal mantello di ermellino. Ma il piccolo principe rimase sorpreso. Il pianeta era minuscolo. Su cosa mai poteva regnare il re? Sire, gli disse. Vi chiedo scusa se vi faccio questa domanda. Io ti ordino di farmi una domanda. Si affrettò a rispondere. Sire, su che cosa regnate? Su tutto, rispose il re con gran semplicità. Su tutto. Il re fece un gesto che comprendeva il proprio pianeta, gli altri pianeti e le stelle. Su tutto questo, disse il piccolo principe. Su tutto questo, rispose il re. Non solo era un monarca assoluto, ma era anche un monarca universale. E le stelle vi obbediscono. Ma certo, disse il re. Obbediscono immediatamente. Io non tollero l'indisciplina. Un potere del genere meravigliò il piccolo principe. Se l'avesse posseduto lui, avrebbe potuto assistere non a 44 tramonti, ma a ben 72 tramonti o a 100 o addirittura a 200 tramonti nell'arco della stessa giornata, senza mai spostare la sedia. E siccome si sentì un po' triste al ricordo del suo piccolo pianeta abbandonato, decise di chiedere un favore al re. Vorrei vedere un tramonto. Mi potete fare un favore? Ordinate al sole di tramontare. Se ordinassi ad un generale di volare da fiore in fiore come una farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello di mare. E se il generale non eseguisse l'ordine che io gli ho impartito, chi avrebbe torto? Voi, disse con sicurezza il piccolo principe. Esatto. Bisogna esigere da ciascuno ciò di cui è capace, disse Ilre. L'autorità mette radici sulla ragione. Se tu ordinassi al tuo popolo di andarsi a buttare al mare, farà la rivoluzione. Io ho il diritto di esigere l'obbedienza affinché i miei ordini siano ragionevoli. Allora è il mio tramonto? Chiese il piccolo principe che mai si dimenticava di una domanda fatta. Avrai il tuo tramonto. Lo esigerò. Ma secondo la mia scienza di governo, attenderò che le condizioni siano favorevoli. E quando sarà? Domandò il piccolo principe. Mmm, mmm, disse Ilre che iniziò a consultare un enorme calendario. Mmm, sarà verso, verso, sarà verso le sette e quaranta e vedrai come sarò ben obbedito. Il piccolo principe sbadigliò. Si rammaricava del suo tramonto mancato e dopo un po' iniziò ad annoiarsi. Non ho più niente da fare qui, disse Ilre. Riparto. Non ripartire, rispose Ilre che era molto fiero di avere finalmente un suddito. Non partire. Ti farò ministro. Ministro di cosa? Della giustizia. Ma non c'è nessuno da giudicare qui. Non si sa mai, gli disse Ilre. Non ho ancora fatto il giro del reame. Sono molto vecchio, non c'è spazio per una carrozza e mi stanco a camminare. Oh, ma io ho già visto, disse il piccolo principe dando un'occhiata all'altra parte del pianeta. Non c'era nessuno neanche lì. Allora giudicherai te stesso, rispose Ilre. È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riuscirai a giudicarti, sarai un vero saggio. Io, disse il piccolo principe, posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui. Ah, ah, disse Ilre. Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio ratto. Lo condannerai a morte di volta in volta, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia. Ma gli darai la grazia per economizzarlo. Ce n'è solo uno. Io, rispose il piccolo principe, non voglio condannare a morte nessuno e penso che andrò via. No, disse Ilre. Ma il piccolo principe, che aveva già iniziato i suoi preparativi, non voleva far soffrire il vecchio monarca e disse, se sua maestà desidera essere obbedita puntualmente, mi potrebbe impartire un ordine ragionevole. Potrebbe, per esempio, ordinarmi di partire entro un minuto. Mi sembra che le condizioni siano favorevoli. Il re non rispose. Il piccolo principe esitò e poi con un sospiro partì. I grandi sono molto strani, disse il piccolo principe tra sé e sé mentre viaggiava. Undici. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Ahah, ecco che mi visita un ammiratore. urlò da lontano il vanitoso quando vide arrivare il piccolo principe, dato che per i vanitosi tutti sono ammiratori. Buongiorno, disse il piccolo principe. Avete un cappello buffo. Mi serve a salutare, rispose il vanitoso. Per salutare quando mi acclamano, sfortunatamente non passa mai nessuno di qui. Ah sì? Fece il piccolo principe non capendo. Batti le mani l'una contro l'altra, esclamò il vanitoso. E il piccolo principe cominciò a battere le mani. Il vanitoso iniziò a salutare con modestia, sollevando il cappello. È più divertente della visita al re, disse tra sé e sé il piccolo principe. E riprese a battere le mani l'una contro l'altra. Il vanitoso ricominciò a sollevare il cappello. Dopo cinque minuti dello stesso esercizio, il piccolo principe si stancò della monotonia del gioco. E cosa bisogna fare per far cadere il cappello? Domandò il piccolo principe. Ma il vanitoso non sentì. I vanitosi sentono solo le lodi. Mi ammiri molto, vero? Chiese al piccolo principe. Che significa ammirare? Ammirare significa riconoscere che sono l'uomo più bello, più ben vestito, più ricco e più intelligente del pianeta. Ma sei da solo sul tuo pianeta. Fammi il piacere, ammirami lo stesso. Ti ammiro, disse il piccolo principe facendo spallucce. Ma perché ti interessa così tanto? E il piccolo principe se ne andò. I grandi sono davvero bizzarri, disse semplicemente tra sé e sé dopo aver ripreso il viaggio. Dodici. Il pianeta successivo era abitato da un bevitore. Questa visita fu breve, ma provocò al piccolo principe un gran senso di tristezza. Cosa ci fai lì? Disse al bevitore che restava imparato in silenzio dinanzi alla sua collezione di bottiglie vuote e piene. Bevo, rispose il bevitore con aria lugubre. Perché bevi? Gli chiese il piccolo principe. Per dimenticare, rispose il bevitore. Per dimenticare cosa? Chiese il piccolo principe che già lo compativa. Per dimenticare che mi vergogno, confessò il bevitore abbassando la testa. Di cosa ti vergogni? Chiese il piccolo principe che desiderava di aiutarlo. Mi vergogno di bere, rispose il bevitore che si chiuse definitivamente nel proprio silenzio. Il piccolo principe se ne andò perplesso. I grandi sono decisamente molto strani, disse tra sé e sé dopo aver ripreso il viaggio. 13. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Quest'uomo era talmente occupato che non alzò neanche la testa quando il piccolo principe arrivò. Buongiorno, disse il piccolo principe. Lei si è spenta la sigaretta. 3 più 2 fa 5, 5 e 7 12, 12 e 3 15. Buongiorno. 15 e 7 22, 22 e 6 28. Non ho tempo per riaccenderla. 26 e 5 31. Quindi fa 501 milioni 622 mila 731. 500 milioni di cosa? Eh? Sei ancora qui? Quindi fa 501 milioni di... Ah, non lo so più, ho talmente tanto lavoro. Sono serio io, non mi perdo mica in banalità. 2, 5, 7... 500 milioni di cosa? Ripete il piccolo principe che mai rinunciava ad una domanda una volta che l'aveva fatta. L'uomo d'affari ha il solo sguardo. E' da 53 anni che abito su questo pianeta e sono stato disturbato tre volte. La prima volta fu 22 anni fa, da un maggiolino caduto da Dio sa dove. Faceva un rumore terribile, feci quattro errori in un'addizione. La seconda volta fu 11 anni fa a causa di una crisi di reumatismi. Non faccio molto esercizio, non ho tempo di passeggiare, sono serio io. La terza volta eccola! Dunque, dicevo, 501 milioni... Milioni di cosa? L'uomo d'affari capì che non c'era nessuna speranza di pace. Milioni di quelle cose che si vedono qualche volta nel cielo. Mosche? Ma no, cose piccole che brillano. Api? Ma no, piccole cose dorate che fanno sognare i fannulloni, ma io sono serio. Non ho tempo di sognare. Ah, le stelle! Esattamente le stelle. E che ci fai con 500 milioni di stelle? 501 milioni 622 mila 731. Sono serio io, sono preciso. E che ci fai con quelle stelle? Che ci faccio? Sì. Niente, le possiedo. Tu possiedi le stelle? Sì. Ma ho già conosciuto un re che... I re non possiedono, regnano. E questo è molto diverso. E a cosa serve possedere le stelle? Mi serve ad essere ricco. E a che ti serve essere ricco? A comprare altre stelle, se qualcuno ne trova. Questo qui, disse tra sé e sé il piccolo principe, ragiona un po' come il mio ubriacone. Tuttavia, fece ancora altre domande. Come si fa a possedere le stelle? Di chi sono? Rispose scontroso l'uomo d'affari. Non lo so, di nessuno. Allora sono mie, perché io l'ho pensato per primo. Basta questo? Ma certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno è tua. Quando hai un'idea per primo, la fai brevettare, è tua. E io possiedo le stelle, perché nessuno prima di me ci ha pensato. È vero, disse il piccolo principe. E che te ne fai? Le gestisco, le conto e le riconto, disse l'uomo d'affari. È difficile, ma sono un uomo serio. Il piccolo principe non era ancora soddisfatto. Se io posseggo una sciarpa, la posso indossare e portarla con me. Se io posseggo un fiore, lo posso cogliere e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle. No, ma posso metterle in banca. Che vuol dire? Vuol dire che scrivo il numero delle mie stelle su un pezzettino di carta e poi lo chiudo a chiave in un cassetto. Tutto qui? È sufficiente. È divertente, pensò il piccolo principe. È molto poetico, ma non è molto serio. Il piccolo principe aveva delle idee molto diverse da quelle dei grandi riguardo alle cose serie. Io, disse ancora il piccolo principe, posseggo un fiore che innaffio tutte le mattine. Posseggo tre vulcani che spazzo ogni settimana. Spazzo anche quello estinto, non si sa mai. È utile per i miei vulcani ed è utile per il mio fiore, che io li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle. L'uomo d'affari aprì la bocca, ma non trovò nulla da rispondere. E il piccolo principe se ne andò. I grandi sono decisamente straordinari, disse tra sé e sé, dopo aver ripreso il viaggio. Quattordici. Il quinto pianeta era curioso. Era il più piccolo di tutti. Aveva spazio sufficiente per un lampione e un lampionaio. Il piccolo principe non riusciva a spiegarsi a cosa potesse servire un lampionaio ed un lampione in mezzo al cielo su un pianeta senza case e senza persone. Ma comunque, disse a sé stesso. Forse quest'uomo è assurdo. Ma forse è meno assurdo del re, del vanitoso, dell'uomo d'affari e del bevitore. Almeno il suo lavoro ha un senso. Quando accende il suo lampione, è come se facesse nascere una stella in più o un fiore. Quando lo spegne, fa dormire la stella o il fiore. È una professione bella. È anche veramente utile, poiché è bella. Quando si avvicinò al pianeta, salutò il lampionaio con molto rispetto. Buongiorno. Perché hai spento il lampione? Sono gli ordini, rispose il lampionaio. Buongiorno. Quali sono gli ordini? Di spegnere il mio lampione. Buonasera. E lo riaccese. Ma perché l'hai riacceso? Sono gli ordini, rispose il lampionaio. Non capisco, disse il piccolo principe. Non c'è niente da capire, disse il lampionaio. Gli ordini sono ordini. Buongiorno. E spense di nuovo il suo lampione. Poi si tamponò la fronte con un fazzoletto a quadretti rossi. Faccio un mestiere terribile. Era ragionevole in altri tempi. Spegnevo al mattino e accendevo la sera. Avevo il resto del giorno per riposarmi e il resto della notte per dormire. E poi, cos'è successo? Dopo questi tempi sono cambiati gli ordini. Gli ordini non sono cambiati, disse il lampionaio. E' proprio questo il dramma. Il pianeta, anno dopo anno, ha iniziato a girare sempre più veloce e gli ordini non sono cambiati. Allora? Disse il piccolo principe. Allora, adesso che fa un giro su se stessi in un minuto, non ho più un momento di riposo. Accendo e spengo ogni minuto. Ma che bello! I giorni a casa tua durano un minuto. Non è per niente bello, disse il lampionaio. E' già da un mese che chiacchieriamo. Un mese? Sì, trenta minuti. Trenta giorni. Buonasera. E spense il suo lampione. Il piccolo principe lo guardò e volle bene a quel lampionaio così fedele agli ordini. Si ricordò dei tramonti che a volte lui stesso cercava spostando la sua sedia. Voleva aiutare il suo amico. Sai, conosco un modo per farti riposare quando lo vorrai. Lo voglio sempre, disse il lampionaio. Perché si può essere sia fedeli che pigri allo stesso tempo. Il piccolo principe continuò. Il tuo pianeta è talmente piccolo che si può fare il giro in tre passi. Devi solo camminare molto lentamente per rimanere sempre al sole. Quando ti vuoi riposare, puoi camminare e il giorno durerà quanto vuoi tu. Non va bene, disse il lampionaio. A me nella vita piace dormire. Questa sì che è una sfortuna, disse il piccolo principe. Una bella sfortuna, rispose il lampionaio. E spense il suo lampione. Quell'uomo lì, disse il piccolo principe mentre proseguiva il suo viaggio, sarebbe stato disprezzato da tutti gli altri. Dal re, dal vanitoso, dal bevitore e dall'uomo d'affari. Però è l'unico che non mi sembri ridicolo. Forse perché si occupa di qualcosa che non sia se stesso. Sospirò con un po' di rammarico e aggiunse. Quell'uomo là è l'unico con cui avrei potuto fare amicizia. Ma il suo pianeta è davvero troppo piccolo. Non c'è spazio per tutti e due. Ciò che il piccolo principe non volle confessare fu che gli dispiaceva lasciare quel pianeta. Perché ogni giorno veniva benedetto da 1440 tramonti. 15. Il sesto pianeta era dieci volte più grande. Era abitato da un vecchio signore che scriveva su degli enormi libri. Ecco un esploratore, disse quando arrivò il piccolo principe. Il piccolo principe si sedette sulla cattedra e sbuffò un po'. Aveva viaggiato tanto. Da dove vieni? Chiese l'anziano signore. Che cos'è quel grande libro? Chiese il piccolo principe. Che cosa fa qui? Sono un geografo, rispose il vecchio signore. Cos'è un geografo? È uno scienziato che sa dove si trovano i mari, i fiumi, le città, le montagne e i deserti. Molto interessante, disse il piccolo principe. Ecco un vero mestiere, disse, dando un'occhiata al pianeta del geografo. Non aveva ancora mai visto un pianeta così maestoso. Il suo pianeta è molto bello. Ci sono degli oceani. Non posso saperlo, disse il geografo. Ah, il piccolo principe era deluso. E le montagne? Non posso saperlo, disse il geografo. E le città e i fiumi e i deserti? Neanche questo posso saperlo, disse il geografo. Ma lei è un geografo. Sì, esatto, disse il geografo. Ma non sono un esploratore. Mi mancano assolutamente gli esploratori. Non è il geografo che conta le città, i fiumi, le montagne, i mari, gli oceani e i deserti. Il geografo è troppo importante per andare in giro. Non può lasciare il proprio studio. Tuttavia riceve gli esploratori. Li interroga e prende nota dei loro ricordi. E se i ricordi di uno di loro gli paiono interessanti, il geografo apre un'inchiesta sulla moralità dell'esploratore. E perché? Perché l'esploratore che mente potrebbe causare delle catastrofi nei libri di geografia. E anche un esploratore che beve troppo. E perché? Perché gli ubriaconi vedono doppio. Quindi quando la moralità dell'esploratore sembra essere buona, si fa un'inchiesta sulla scoperta. E quindi va a vedere? No, è troppo complicato. Ma si esige che l'esploratore fornisca delle prove. Per esempio, per la scoperta di una grossa montagna, si esige che presenti delle grosse pietre. Il geografo improvvisamente si commosse. Ma tu? Tu vieni da lontano? Sei un esploratore! Descrivimi il tuo pianeta! E il geografo aprì il suo registro. Temperò la sua matita. Le storie degli esploratori vengono scritte prima a matita, e poi a penna, quando l'esploratore fornisce delle prove. Allora, disse il geografo. Oh, è casa mia, disse il piccolo principe. Non è molto interessante. È tutto molto piccolo. Ho tre vulcani, due attivi e uno inattivo, ma non si sa mai. Non si sa mai, ripete il geografo. Ho anche un fiore. Non annotiamo i fiori. Perché? È la cosa più bella che c'è? Perché i fiori sono effimeri. Che significa effimeri? I libri di geografia, disse il geografo, sono i libri più seri che ci sono. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi posizione. È molto raro che un oceano si svuoti delle proprie acque. Noi scriviamo delle cose eterne. Ma i vulcani si possono risvegliare? Interruppe il piccolo principe. Che significa? Effimero. Che i vulcani siano attivi o inattivi è lo stesso, disse il geografo. Ciò che conta per noi è la montagna. Questa non cambia. Ma che vuol dire effimero? Ripete il piccolo principe che in vita sua non rinunciava mai ad una domanda una volta che l'aveva fatta. Significa a rischio di scomparsa imminente. Il mio fiore è a rischio di scomparsa imminente. Ma certo. Il mio fiore è effimero, si disse il piccolo principe. Non ha che quattro spine per difendersi dal mondo e l'ho lasciato tutto solo a casa mia. Fu il primo sentimento di rimpianto, ma si fece coraggio. Dove mi consiglia di andare? Gli chiese. Nel pianeta Terra, rispose il geografo, ha una buona reputazione. E il piccolo principe andò via, pensando al suo fiore. 16. Il settimo pianeta fu dunque la Terra. La Terra non è un pianeta qualunque. Conta 111 re. Non dimentichiamoci dei re neri. 7000 geografi, 900.000 uomini d'affari, 7 milioni e mezzo di ubriaconi, 311 milioni di vanitosi, vale a dire circa 2 miliardi di adulti. Per darvi un'idea delle dimensioni della Terra, vi dico che prima dell'invenzione dell'elettricità, si doveva mantenere, in tutti e sei i continenti, un vero e proprio esercito di 462.511 lampionai. Visto da lontano, faceva un effetto meraviglioso. I movimenti di quell'esercito venivano regolati come un balletto dell'opera. Prima era il turno dei lampionai della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopo che questi accendevano i propri lampioni, andavano a dormire. Allora partiva il turno della danza dei lampionai della Cina e della Siberia. Dopo anche questi si ritiravano dietro le quinte. Allora era il turno dei lampionai della Russia e delle Indie, poi di quelli dell'Africa e dell'Europa, poi di quelli dell'America del Sud, poi di quelli dell'America del Nord. E mai si sbagliavano nell'entrare in scena. Era grandioso. Solo il lampionaio dell'unico lampione al Polo Nord e il suo collega responsabile dell'unico lampione al Polo Sud erano liberi dalla fatica e dalle attenzioni. Lavoravano due volte l'anno. 17 Quando si vuole fare un po' gli spiritosi, ci si discosta sempre un po' dalla verità. Non sono stato del tutto onesto quando ho parlato dei lampionai. Rischio di dare un'idea sbagliata del nostro pianeta a coloro che non lo conoscono. Gli uomini occupano poco spazio sulla Terra. Se i due miliardi di abitanti che popolano la Terra stessero in piedi uno accanto all'altro, potrebbero tranquillamente entrare su una piazza lunga 20 miglia e larga 20 miglia. Potremmo accumulare l'umanità su un isolotto del Pacifico. I grandi ovviamente non vi crederanno. Immaginano di occupare molto spazio. Si vedono importanti come i Baobab. Consigliategli allora di fare il calcolo. Adorano le cifre. Lo adoreranno. Ma non perdete tempo con questo pensiero. È inutile. Credetemi, il piccolo principe una volta sulla Terra fu molto sorpreso quando non vide nessuno. Temeva di aver sbagliato pianeta quando vide un anello del colore della luna spostarsi nella sabbia. Buonasera, azzardò il piccolo principe. Buonasera, fece il serpente. Su quale pianeta sono caduto? Sulla Terra, in Africa. Ah, ma non c'è nessuno sulla Terra. Questo è il deserto. Non ci sono persone nei deserti. La Terra è grande, disse il serpente. Il piccolo principe si sedette su una pietra e alzò gli occhi verso il cielo. Mi chiedo, disse, se le stelle sono illuminate in modo che ognuno un giorno possa trovare la sua. Guarda il mio pianeta. È proprio sopra di noi, ma quant'è lontano. È bello, disse il serpente. Cosa ci fai qui? Ho dei problemi con un fiore, disse il piccolo principe. Ah, fece il serpente e ci fu silenzio. Dove sono gli uomini? Riprese infine il piccolo principe. Si è un po' soli nel deserto. Si può essere soli anche in compagnia, disse il serpente. Il piccolo principe lo guardò a lungo. Sei una bestia strana, disse infine. Sei fino come un dito, ma sono più potente del dito di un re. Il piccolo principe sorrise. Non puoi essere così potente. Non hai neanche le zampe. Non puoi neanche muoverti. Posso portarti più lontano di una nave, disse il serpente. Si arrotolò sulla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro. Tutto quello che tocco lo rimando al paese da cui è venuto, disse ancora. Ma tu sei puro. Vieni da una stella. Il piccolo principe non rispose. Mi fai pena tu così debole su questa terra di granito. Posso aiutarti un giorno se dovesse mancarti troppo il tuo pianeta. Posso. Oh, ho capito bene, disse il piccolo principe. Ma perché parli per enigmi? Li risolvo tutti, disse il serpente. E non parlarono più. Diciotto. Il piccolo principe attraversò il deserto e incontrò solo un fiore. Un fiore con tre petali, un fiore di poca importanza. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il fiore. Dove sono gli uomini? Chiese gentilmente il piccolo principe. Il fiore un giorno vide passare una carovana. Gli uomini? Credo che ne esistano sei o sette. Li ho visti qualche anno fa, ma non si sa mai dove trovarli. Si lasciano portare dal vento. Non hanno radici e questo li infastidisce molto. Addio, disse il piccolo principe. Addio, disse il fiore. Diciannove. Il piccolo principe salì su una montagna molto alta. Le uniche montagne che aveva mai conosciuto erano i tre vulcani che gli arrivavano alle ginocchia e usava quello inattivo come sgabello. Da una montagna alta come quella lì, si disse dunque, all'improvviso vedrò tutto il pianeta e tutti gli uomini. Ma non vide altro che dei picchi di roccia affilati come degli ali. Buongiorno, disse tutto ad un tratto. Buongiorno, 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 rispose l'eco. Chi sei? disse il piccolo principe. Chi sei? Chi sei? Chi sei? Sì, mio amico, sono solo. Sono solo. Sono solo. Sono solo. Che pianeta strano, pensò allora. È tutto arido, tutto appuntito e tutto sgradevole e gli uomini mancano di immaginazione e ripetono ciò che gli si dice. A casa mia avevo un fiore, parlava sempre per primo. 20 Ma successe che dopo aver vagato per molto tempo tra la sabbia, le rocce e la neve, il piccolo principe trovò una strada e le strade portano sempre agli uomini. Buongiorno, disse il piccolo principe. Era un giardino pieno di rose. Buongiorno, dissero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano tutte al suo fiore. Chi siete? Domandò stupefatto. Noi siamo le rose, dissero le rose. Ah, fece il piccolo principe e si sentì molto triste. La sua rosa gli aveva raccontato che era l'unica della sua specie nell'universo ed ecco qui che ce n'erano cinquemila tutte simili in un solo giardino. Sarebbe molto irritata, si disse, se vedesse tutto ciò. Tossirebbe molto e farebbe finta di morire per evitare di essere ridicolizzata. E sarei obbligato a far finta di accudirla, altrimenti per umiliarmi si lascerebbe davvero morire. Poi si disse ancora, mi credevo ricco con un fiore unico al mondo e invece non posseggo che una rosa ordinaria. Questa, i miei tre vulcani che mi arrivano alle ginocchia di cui uno può essere che sia estinto per sempre. Tutto ciò non mi rende un gran principe. E si addormentò nell'erba piangendo. 21 Buongiorno disse la volpe. Buongiorno disse il piccolo principe che si voltò ma non vide nessuno. Sono qui disse la voce sotto al melo. Chi sei? Sei molto carina. Sono una volpe disse la volpe. Vieni a giocare con me propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te non sono addomesticata. Ah, scusa fece il piccolo principe ma subito dopo aggiunse che significa addomesticare? Tu non sei di qui disse la volpe. Che cosa stai cercando? Cerco gli uomini disse il piccolo principe. Che vuol dire addomesticare? Gli uomini disse la volpe. hanno i fucili vanno a caccia è imbarazzante allevano le galline è il loro unico interesse cerchi galline? No cerco degli amici che significa addomesticare? È una cosa fin troppo dimenticata disse la volpe significa creare dei legami. Creare dei legami? Certo disse la volpe. Ora tu per me non sei altro che un bambino simile a centomila bambini e non ho bisogno di te e tu neanche hai bisogno di me io per te non sono altro che una volpe che assomiglia a centomila altre volpi ma se tu mi addomestichi avremo bisogno l'uno dell'altra tu per me sarai unico al mondo io per te sarò unica al mondo. Penso di iniziare a capire disse il piccolo principe c'è un fiore penso mi abbia addomesticato è possibile disse la volpe si vede di tutto sulla terra oh ma ma non è sulla terra disse il piccolo principe la volpe sembrava molto intrigata su un altro pianeta? sì ci sono cacciatori su questo pianeta? no molto interessante e le galline? no niente è perfetto sospirò la volpe ma poi tornò al suo pensiero la mia vita è monotona io do la caccia alle galline gli uomini danno la caccia a me tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano quindi mi annoio un po' ma se tu mi addomestichi la mia vita si illuminerà riconoscerò che il rumore di un passo sarà diverso da tutti gli altri passi gli altri passi mi fanno nascondere sotto terra i tuoi passi mi chiameranno fuori dalla mia tana come musica e poi guarda vedi quei campi di grano laggiù io non mangio il pane il grano per me è completamente inutile i campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste ma tu hai capelli color oro allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticata il grano che è anche dorato mi farà ricordare di te e allora amerò il rumore del vento nel grano la volpe divenne silenziosa guardava il piccolo principe per favore addomesticami disse lo vorrei molto rispose il piccolo principe ma non ho tanto tempo ho degli amici da trovare e tante cose da conoscere si conoscono solo le cose che si addomesticano disse la volpe gli uomini non hanno più il tempo di conoscere niente comprano le cose già pronte nei negozi ma dato che non esistono negozi per gli amici gli uomini non hanno più amici se vuoi un amico addomesticami che cosa devo fare disse il piccolo principe bisogna essere molto pazienti rispose la volpe innanzitutto ti siederai abbastanza lontano da me così nell'erba ti guarderò con la coda dell'occhio e non dirai niente le parole sono fonte di malintesi ma ogni giorno potrai sederti sempre più vicino l'indomani il piccolo principe ritorna sarebbe meglio se venissi sempre alla stessa ora disse la volpe se vieni per esempio alle 4 del pomeriggio io alle 3 inizierò ad essere felice più l'ora si avvicina più mi sentirò felice alle 4 in punto mi agiterò e mi preoccuperò conoscerò il prezzo della felicità ma se tu vieni ad un'ora qualunque non saprò mai che ora preparare il mio cuore bisogna avere dei riti che cos'è un rito? chiese il piccolo principe anche questa è una cosa abbastanza dimenticata disse la volpe è ciò che rende un giorno diverso dagli altri giorni un'ora diversa dalle altre ore c'è un rito per esempio con i miei cacciatori il giovedì vanno a ballare con le ragazze del paese allora il giovedì è un giorno meraviglioso vado a passeggio fino alla vigna ma se i cacciatori andassero a ballare un qualsiasi giorno tutti i giorni si assomiglierebbero e io non avrei neanche un giorno di vacanza e così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza si avvicinò ah disse la volpe piangerò è colpa tua disse il piccolo principe non volevo farti del male ma tu hai voluto che ti addomesticassi certo disse la volpe ma piangerai allora non ci hai guadagnato niente sì che ci ho guadagnato grazie al colore del grano poi aggiunse va a rivedere le rose capirai che la tua è unica al mondo poi torna a salutarmi e ti regalerò un segreto il piccolo principe andò a rivedere le rose non assomigliate per niente alla mia rosa ancora non siete nulla disse loro nessuno vi ha addomesticate e voi non avete addomesticato nessuno siete com'era la mia volpe non era che una volpe uguale a centomila altre ma siamo diventati amici ed ora è unica al mondo le rose erano molto imbarazzate siete belle ma siete vuote disse loro ancora non si può morire per voi certo per un passante la mia rosa potrebbe assomigliare alle altre ma lei da sola è più importante di tutte voi messe assieme perché è lei che è innaffio perché è lei che metto sotto alla campana perché è lei che proteggo col paravento perché per lei ho ucciso i bruchi salvo quei due o tre che sono diventati farfalle perché è lei che ascolto mentre si lamenta o si vanta o anche quando tace perché è la mia rosa e tornò dalla volpe addio gli disse addio disse la volpe ecco il mio segreto è molto semplice si vede bene solo con il cuore l'essenziale invisibile agli occhi l'essenziale invisibile agli occhi ripete il piccolo principe per ricordare è il tempo che hai trascorso con la tua rosa che rende la tua rosa importante è il tempo che ho trascorso con la mia rosa fece il piccolo principe per ricordare gli uomini hanno dimenticato questa verità ma tu non la devi dimenticare diventi responsabile per sempre per le cose che hai addomesticato tu sei responsabile per la tua rosa sono responsabile per la mia rosa ripete il piccolo principe per ricordare 22 buongiorno disse il piccolo principe buongiorno disse il deviatore ferroviario che cosa fai qui disse il piccolo principe smisto i viaggiatori in gruppi di mille spedisco i treni che li portano a volte a destra e altre volte a sinistra disse il deviatore e un treno espresso ben illuminato passò con un rombo di tuono facendo vibrare la cabina del deviatore ferroviario vanno di fretta disse il piccolo principe che cosa cercano neanche il capotreno lo sa disse il deviatore ferroviario e un secondo treno espresso illuminato sfrecciò nella direzione opposta tornano già chiese il piccolo principe non sono gli stessi è uno scambio disse il deviatore non erano contenti là dove erano non si è mai contenti dove ci si trova disse il deviatore e un terzo treno espresso ben illuminato passò con un rombo di tuono stanno seguendo i primi viaggiatori chiese il piccolo principe non stanno seguendo proprio niente disse il deviatore ferroviario dormono là dentro e se non dormono sbadigliano soli i bambini stanno con i nasi schiacciati sui finestrini soli i bambini sanno quello che cercano fece il piccolo principe dedicano il loro tempo ad una bambola di pezza che per loro diventa importante e se gliela portano via piangono sono fortunati disse il deviatore ferroviario 23 buongiorno disse il piccolo principe buongiorno disse il mercante era un mercante di pillole perfezionate per placare la sete ingerendone una settimana non si avrebbe più avuto il bisogno di bere perché le vendi? chiese il piccolo principe si risparmia tanto tempo disse il mercante gli esperti hanno fatto dei calcoli si risparmiano 53 minuti a settimana e che ci si fa con quei 53 minuti? ci puoi fare quello che vuoi io disse il piccolo principe se avessi 53 minuti da spendere camminerei lentamente verso una fontana 24 eravamo all'ottavo giorno del mio incidente nel deserto e ascoltai la storia del mercante di pillole mentre bevevo l'ultima goccia dal mio approvvigionamento d'acqua ah disse il piccolo principe i tuoi ricordi sono molto belli ma ancora non ho riparato il mio aeroplano non ho più niente da bere e sarei molto felice anche io se potessi camminare lentamente verso una fontana la mia amica volpe disse lui mio piccolo omitto qua non si tratta della volpe perché? perché moriremo di sete non capiva il mio ragionamento e mi rispose è bello aver avuto un amico anche se si sta per morire io sono contento di aver avuto un'amica come la volpe non capisce il pericolo mi dissi non ha mai fame o sete gli basta un po' di sole ma mi guardò e rispose al mio pensiero ho sete anch'io cerchiamo un pozzo feci un gesto di stanchezza era assurdo cercare un pozzo a caso nell'immensità del deserto ma comunque iniziamo a camminare dopo aver camminato ore e ore in silenzio calò la notte e le stelle iniziarono a brillare la sete mi faceva sentire febbricitante e mi sembravano quasi un sogno mentre le guardavo le parole del piccolo principe mi tornarono in mente quindi anche tu hai sete gli chiesi l'acqua potrebbe far bene al cuore non capì la sua risposta ma non dissi niente sapevo che era impossibile interrogarlo era stanco si sedette mi sedetti accanto a lui e dopo un lungo silenzio disse le stelle sono belle grazie ad un fiore che non possiamo vedere risposi certo e guardai le dune di sabbia sotto alla luna senza parlare il deserto è bello aggiunse era vero ho sempre amato il deserto ci si siede su una duna del deserto non si vede nulla non si sente nulla ma anche così qualcosa brilla nel silenzio ciò che rende bello il deserto è che da qualche parte nasconde un pozzo disse il piccolo principe fui sorpreso dall'improvvisa comprensione di quel luccichio misterioso nella sabbia quando ero bambino vivevo in una vecchia casa in cui la leggenda narrava ci fosse un tesoro nascosto ovviamente nessuno l'ha mai trovato forse nessuno l'ha mai cercato ma irradiava una sorta di incanto su tutta la casa la mia casa nascondeva un segreto in fondo al proprio cuore sì dissi al piccolo principe se si tratta di una casa delle stelle o del deserto ciò che li rende belli è invisibile sono contento che tu sia d'accordo con la mia volpe disse appena il piccolo principe si addormentò lo presi in braccio e mi rimisi in cammino ero commosso mi sembrava di portare un tesoro fragile mi sembrava non ci fosse nulla di più fragile sulla terra nel bagliore della luna guardavo la sua fronte pallida quegli occhi chiusi quei ciuffi di capelli che si muovevano col vento e mi dissi quello che vedo qui è solo un guscio ciò che è più importante è invisibile quando le sue labbra si schiusero e fecero un mezzo sorriso mi dissi ancora ciò che mi commuove così profondamente di questo piccolo principe addormentato è la sua fedeltà verso un fiore è l'immagine di una rosa che brilla come la fiamma di un lume anche quando dorme e lo sentì ancora più fragile sentì il bisogno di proteggerlo come se anche lui fosse una fiamma che poteva estinguersi con un soffio di vento e all'alba camminando così trovai il pozzo 25 gli uomini disse il piccolo principe vanno sui treni espressi ma non sanno cosa cercano vanno di fretta si agitano e continuano a girare a vuoto e aggiunse non vale la pena il pozzo che troviamo non assomigliava ad un pozzo del sahara i pozzi del sahara sono semplici buchi scavati nella sabbia questo pozzo assomigliava al pozzo di un villaggio ma non c'era nessun villaggio e mi sembrava di sognare è strano disse al piccolo principe è tutto pronto la puleggia il secchio e la corda rise e toccò la corda attivò la puleggia e la puleggia gemette come geme una vecchia banderuola dopo che il vento ha dormito a lungo ascolta disse il piccolo principe abbiamo svegliato il pozzo e canta non volevo che si sforzasse lascia fare a me dissi è troppo pesante per te lentamente sollevai il secchio fino al bordo e lo installai saldamente sentivo il canto della puleggia nelle mie orecchie e nell'acqua che tremava vedevo luccicare il sole ho sete di quell'acqua là disse il piccolo principe dammi da bere e capì cosa cercava sollevai il secchio alle sue labbra beve ad occhi chiusi era dolce come una festa quell'acqua era molto di più che un alimento nasceva infatti da un viaggio sotto le stelle dal canto della puleggia dallo sforzo delle mie braccia era buona per il cuore come un regalo quando ero ragazzo la luce dell'albero di Natale la musica della messa di mezzanotte la dolcezza di un sorriso erano importanti così come lo splendore del regalo che ricevevo a Natale gli uomini dove vivi tu coltivano cinquemila rose nello stesso giardino e non trovano ciò che cercano non lo trovano risposi io e quello che cercano lo si può trovare in una sola rosa o in un po' d'acqua certo risposi io e il piccolo principe aggiunse ma gli occhi sono ciechi bisogna cercare con il cuore avevo bevuto respiravo bene la sabbia all'alba era del colore del miele mi rendeva felice anche la sabbia color miele cosa mi causava allora un senso di dolore devi mantenere la tua promessa disse dolcemente il piccolo principe mentre si sedeva accanto a me ancora una volta quale promessa sai la museruola per la mia pecora sono responsabile per quel fiore tirai fuori dalla mia tasca gli abbozzi dei miei disegni il piccolo principe li guardò e mentre rideva disse i tuoi baobab sembrano un po' dei cavoli oh io che ero così fiero dei miei baobab la tua volpe le sue orecchie sembrano delle corna sono troppo lunghe e rise ancora sei ingiusto ometto non so disegnare altro che boa chiusi e boa aperti no va bene i bambini lo sanno disse quindi feci il disegno di una museruola e avevo il cuore stretto quando glielo diedi hai dei progetti di cui non so nulla ma non mi rispose mi disse sai il mio arrivo sulla terra domani sarà l'anniversario poi ci fu silenzio e disse ancora sono atterrato proprio qui vicino e arrossi e ancora una volta senza capire perché senti uno strano senso di dolore e mi venne in mente una domanda quindi non era un caso che la mattina che ti ho conosciuto otto giorni fa vagavi così tutto solo a mille miglia da casa lontano da qualsiasi zona abitata tornavi al punto in cui sei atterrato il piccolo principe arrossi ancora e aggiunsi titubando era per l'anniversario il piccolo principe arrossì ancora non rispondeva mai alle domande ma quando si arrossisce si intende sì non è così ah ho un po' paura dissi ma mi interruppe tu adesso devi lavorare devi tornare al tuo motore io ti aspetto qui torna domani sera ma non mi senti irrassicurato ricordai la volpe si rischia di piangere un po' se ci si lascia addomesticare 26 accanto al pozzo c'era la rovina di un vecchio muro di pietra quando ritornai dal mio lavoro la sera successiva vidi da lontano il mio piccolo principe che si era seduto sul muro con le gambe a penzoloni e sentì che parlava quindi non ti ricordi non è proprio qui disse un'altra voce gli rispose per forza poiché parlò di nuovo sì sì è il giorno giusto ma non è questo il posto proseguì verso il muro ma non vidi e ne sentì nessuno però il piccolo principe parlò di nuovo esattamente vedrai dove iniziano le mie orme nella sabbia non devi far altro che aspettarmi sarò lì stanotte ero a 20 metri dal muro e ancora non vedevo nessuno hai del buon veleno sei sicuro che non mi faccia soffrire troppo rimasi impietrito mi si fermò il cuore ma non capivo ora vattene disse il piccolo principe voglio scendere allora abbassai anche io gli occhi sul fondo del muro e feci un balzo in aria di fronte al piccolo principe c'era uno di quei serpenti gialli che possono uccidere nell'arco di 30 secondi mentre cercavo di tirar fuori dalla mia tasca la rivoltella feci un passo indietro e appena feci rumore il serpente strisciò senza alcuno sforzo nella sabbia come un getto d'acqua che viene mozzato e senza alcuna fretta apparente scomparve con un suono leggero e metallico in mezzo alle rocce arrivai al muro giusto in tempo per prendere il mio piccolo principe tra le braccia era pallido come la neve che storia è questa? ora parli con i serpenti gli allentai la sciarpa dorata che indossava sempre gli inumidi le tempie e gli diedi dell'acqua da bere e ora non osavo fargli domande mi guardava con serietà e mi mise le braccia attorno al collo sentivo che aveva il battito flebile come quello di un uccellino appena abbattuto da un fucile sono felice che tu abbia riparato il tuo motore disse ora puoi tornare a casa come fai a saperlo? ero giusto venuto per dirgli che ero riuscito a riparare il motore contro ogni mia speranza non rispose alla mia domanda ma aggiunse anche io torno a casa oggi poi malinconicamente disse è molto più lontana è molto più difficile sapevo benissimo che stava per succedere qualcosa di straordinario lo tenevo stretto tra le braccia come se fosse un neonato eppure mi sembrava che stesse cadendo a capofitto in un abisso da cui non potevo salvarlo aveva lo sguardo serio perso e lontano ho la tua pecora e ho la cassa per la pecora e ho la museruola sorrise con malinconia aspettai a lungo sentì che si stava riprendendo a poco a poco piccolo ometto hai paura aveva paura senza dubbio ma rise dolcemente avrò più paura stasera di nuovo mi sentì gelare dentro da un senso di irreparabilità e capì che non sopportavo l'idea di non sentire più quella risata era per me come una fontana nel deserto piccolo ometto voglio ancora sentirti ridere ma mi disse questa notte sarà passato un anno la mia stella si troverà esattamente sopra il posto in cui sono atterrato l'anno scorso piccolo ometto dimmi che è un brutto sogno questa storia del serpente dell'incontro e della stella ma non rispose alla mia domanda e disse le cose importanti non si vedono certo è come per il fiore se ami un fiore che si trova su una stella è dolce di notte guardare il cielo tutte le stelle sono in fiore certo è come per l'acqua quella che mi hai dato da bere era come musica grazie alla puleggia e alla corda ti ricordi era buona certo la notte guarderai le stelle è troppo piccola casa mia per farti vedere dove si trova meglio così la mia stella sarà per te una delle stelle allora adorerai guardare tutte le stelle saranno tutte tue amiche e poi voglio farti un regalo e rise ancora ah piccolo ometto piccolo ometto mi piace ascoltare la tua risata proprio questo sarà il mio dono sarà come con l'acqua che cosa intendi la gente ha delle stelle che non sono uguali per alcuni che viaggiano sono delle guide per altri non sono altro che delle piccole luci per altri per gli studiosi sono dei problemi per il mio uomo d'affari erano oro ma tutte quelle stelle lì sono silenziose tu invece avrai le stelle come non le ha nessun altro cosa intendi quando guarderai il cielo di notte dato che io abiterò in una di esse dato che io riderò su una di esse allora per te sarà come se ridessero tutte le stelle tu solo avrai le stelle che sanno ridere e rise ancora e quando ti sarai consolato ci si consola sempre sarai felice di avermi conosciuto sarai sempre mio amico desidererai ridere con me ogni tanto aprirai la finestra così per il piacere di farlo e i tuoi amici si stupiranno di vederti ridere mentre guardi il cielo allora tu dirai sì a me le stelle fanno ridere e penseranno che tu sia pazzo ti avrò fatto un bello scherzetto e rise ancora sarà come se invece delle stelle ti avessi regalato tantissimi campanelli che sanno ridere e rise ancora poi divenne serio questa notte sai non venire non ti lascerò sembrerà che mi stia sentendo male sembrerà che stia morendo è così non venire a vedere tutto ciò non ne vale la pena non ti lascerò era preoccupato ti dico così a causa del serpente non vorrei che ti mordesse i serpenti sono cattivi mordono giusto per il gusto di farlo non ti lascerò ma poi qualcosa allora assicurò è vero che non hanno il veleno per un secondo morso quella notte non lo vidi incamminarsi se ne andò senza fare rumore quando riuscì a raggiungerlo camminava rapidamente a passo deciso mi disse solamente ah sei qui mi prese per mano ma era ancora preoccupato hai sbagliato proverai dolore sembrerà che sia morto e non sarà vero non dissi nulla capisci è troppo lontano non posso portarmi questo corpo è troppo pesante io continuai a tacere sarà come un vecchio guscio abbandonato non sono tristi i vecchi gusci io non dissi niente si scoraggiò ma fece ancora uno sforzo sarà bello sai anche io guarderò le stelle tutte le stelle saranno puleggie arrugginite tutte le stelle mi daranno da bere continuavo a stare zitto sarà così divertente tu avrai 500 milioni di campane io avrò 500 milioni di fontane e tacco anche lui poiché stava piangendo eccolo lasciami andare da solo e si sedette perché aveva paura e disse ancora sai il mio fiore io ne sono responsabile è così delicato è così ingenuo ha solo quattro spine per difendersi dal mondo mi sedetti perché non riuscivo a stare in piedi disse eccoci è tutto esitò ancora un po' poi si alzò fece un passo io rimasi impietrito non ci fu altro che un lampo giallo vicino alla sua caviglia rimase un attimo immobile non gridò cadde dolcemente come cade un albero non fece rumore a causa della sabbia 27 e ora certo sono già passati sei anni non ho mai raccontato questa storia gli amici che mi hanno incontrato subito dopo erano ben contenti di rivedermi vivo ero triste ma dicevo loro è la stanchezza ora mi sono un po' consolato certo non del tutto ma so bene che è tornato sul suo pianeta perché all'alba non ritrovai il suo corpo non era un corpo così pesante e la notte adoro ascoltare le stelle è come se fossero 500 milioni di campane ma ecco la cosa straordinaria sulla museruola che ho disegnato per il piccolo principe ho dimenticato di aggiungere il cinturino di pelle non l'avrà mai usata per la pecora allora mi chiedo che cos'è successo sul suo pianeta può essere che la pecora abbia mangiato il fiore a volte mi dico certamente no il piccolo principe mette il suo fiore sotto alla campana di vetro ogni notte e controlla attentamente la sua pecora allora mi sento felice e tutte le stelle ridono dolcemente a volte mi dico prima o poi si distrae e basta così una di queste sere si dimentica della campana di vetro e la pecora esce senza far rumore nella notte allora le campane si trasformano tutte in lacrime è un gran mistero per voi che volete bene al piccolo principe come gliene voglio io niente sarà più lo stesso se da qualche parte non si sa dove una pecora che non conosciamo mangia un fiore guardate il cielo chiedetevi la pecora ha mangiato il fiore sì o no e vedrete come tutto cambia e nessun adulto capirà mai perché abbia così tanta importanza per me questo è il paesaggio più bello e più triste al mondo è lo stesso paesaggio della pagina precedente ma l'ho disegnato ancora per farvelo vedere bene è qui che il piccolo principe è apparso e scomparso sulla terra guardate attentamente questo paesaggio per essere certi di riconoscerlo se andrete nel deserto in Africa un giorno e se vi capita di passarci vi prego non affrettatevi aspettate un po' proprio sotto alla sua stella se poi un bambino viene da voi se ride se ha i capelli color oro se non risponde quando gli fate delle domande saprete bene chi è allora siate gentili non mi lasciate così triste scrivetemi subito che è tornato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.